E' ancora attesa la farmacia Fontanelle nella periferia di Pescara. Nei quartieri popolari infatti scarseggiano quei presidi sanitari che durante questo periodo di emergenza assumono un ruolo ancora più importante nel tessuto sociale cittadino. Avevamo avviato il procedimento per l'apertura della farmacia Fontanelle, rivendica il centro-sinistra, ma con la nuova amministrazione tutto si è fermato. Delle 85 farmacie che dovevano nascere ne sono state assegnate soltanto 21. Ne mancano quindi ancora molte che riguardano soprattutto zone periferiche della città ma anche aree interne della nostra regione Abruzzo, naturalmente divise per varie province. Sulla provincia di Pescara parliamo di Salle, Vicoli, Pianella, Cepagatti, Bolognano, Brittoli. E poi naturalmente siamo qui a Fontanelle perché nel 2012 venne portata avanti una grande raccolta di firme, oltre 2.000 dell'associazione e anche della parrocchia, per la nascita della farmacia che doveva nascere qui. La farmacia in un rione periferico di Pescara, ma anche nelle aree interne, è un presidio naturalmente sanitario, soprattutto importante in questo periodo di pandemia, ma anche un presidio di sicurezza. Nelle periferie cittadine si vive una situazione simile a quella delle aree interne della nostra regione. Gli abitanti dei centri meno popolosi e dei quartieri popolari si sentono cittadini di serie B, poiché privati dei servizi presenti nei capoluoghi. Proprio come qui a Fontanelle, anche appena era stata assegnata una quarta farmacia, però tuttavia questa farmacia non è stata aperta. E proprio come a Fontanelle era stata individuata una zona non centrale, diciamo periferica, molto popolosa. Però purtroppo questo servizio non è stato ancora aperto e non ci sono neanche rassicurazioni su quando verrà aperto.